Quindi, quali sono gli argomenti che daresti a favore di una donna che non vuole avere un figlio? Deve essere premiata. Ci stiamo assicurando che i nostri figli non possano vivere bene su questo pianeta, producendo più figli. Per una donna che sceglie di non essere madre, che non vuole... Oh, ti darò un premio. Quindi, lei ti ha scelto come sostenitore. Di una causa. E devi difendere la sua causa. Quali sono... Mi spiace, non ho capito. C'è una donna... Sì. ...che non vuole essere madre. Non vuole avere un figlio. E ti ha scelto come sostenitore della sua causa. E devi difendere la sua causa. Quali sono gli argomenti che daresti a favore di una donna che non vuole avere un figlio? Ho detto che deve essere premiata. L'ho già annunciato in India. Le giovani donne che possono avere figli, e hanno scelto di non farlo. Istituiremo un premio per loro. Perché al momento il miglior servizio che puoi rendere al mondo è che non stai sovrappopolando questo pianeta. Ok? Se... Supponi che tu fossi una donna tigre. Voglio dire una tigre femmina. Allora ti avrei incoraggiata. Per favore, riproduciti. Perché è una specie in via di estinzione. Beh, sai, vedi, non siamo in via di estinzione. Ovunque vai c'è una folla. Per proteggere una nazione devi costruire un muro, altrimenti vengono delle persone. Ovviamente c'è troppa... Ovviamente c'è troppa popolazione, ovunque. Non è così? Quindi questo è qualcosa che dobbiamo osservare in modo molto fondamentale. Questo sta accadendo perché il bisogno... Il bisogno è innato. Il bisogno riproduttivo è un bisogno molto innato. Qualunque argomento abbiano, a un certo punto, il corpo comanda. Fortunatamente c'è molto dolore e cose implicate. Altrimenti non so cosa sarebbe successo. Quindi, questo bisogno, se uno deve trascenderlo, invece di riaprimerlo con forza, se la tua identità si sposta naturalmente oltre il tuo sé biologico, vedrai. Questi bisogni scompariranno del tutto. Adesso voglio che le persone capiscano che ciò che stai cercando non è un bambino. Ciò che stai cercando è il coinvolgimento. Al momento il tuo problema è che semplicemente non puoi coinvolgerti con le persone a meno che siano uscite dal tuo corpo. La tua identità biologica è così forte che semplicemente non puoi includere queste persone come fossero due. Oh, questo è venuto dal mio corpo. Questo è mio. Questo è perché sei intrappolato nella tua stessa biologia. È tutto qui. Perché dovrebbero uscire dal tuo corpo? Non è necessario. L'essere umano ne ha l'abilità. Questo è un istinto animale. Questo istinto è necessario per la sopravvivenza della razza, ovviamente. Ma ora la sopravvivenza della razza dipende dal controllare consapevolmente un po' la popolazione. Dall'inizio del ventesimo secolo, nel 1910, la nostra popolazione era di soli 1,58 miliardi. Diciamo 1,6 miliard. Oggi siamo 7,6 miliardi. Nel 2050 stimano che saremo 10,3 miliardi. Quando saranno 10,3 miliardi? Non voglio essere in giro. Ci siete? Voglio solo che tu immagini un altro aumento del 50% della popolazione mondiale. Puoi immaginare tutti i problemi che affronterai. Ci stiamo assicurando che i nostri figli non possano vivere bene su questo pianeta producendo più figli. È molto, molto importante. Dobbiamo capire. Questo è accaduto non solo a causa della riproduzione sfrenata. No, non è vero. È controllata. È semplicemente perché la nostra aspettativa di vita si sta estendendo. È fantastico. Per esempio in India, quando gli inglesi lasciarono l'India, la nostra aspettativa di vita era di 28 anni. Quanti di voi hanno più di 25? 28 anni, scusate. Quindi siete tutti morti. Ecco cosa significava. Voglio che tu capisca. 28 anni. Oggi ha raggiunto i 70. Che è un risultato fenomenale in 70 anni di indipendenza. Quindi, quando ci facciamo carico della morte, non dovremmo farci carico della nascita. Non propongo nessuna filosofia. parlo solamente di semplice aritmetica. Ci siete? Quando ci facciamo carico della morte, non dovremmo farci carico della nascita. Se non lo facciamo, se non conteniamo consapevolmente la nostra popolazione, la natura lo farà per noi in modo molto crudele. Vuoi aspettare quel giorno? Puoi farlo. Ma poiché siamo esseri umani, sarebbe bello se lo facessimo consapevolmente. Non è così? Sì. 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 Sì.